Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Questo è la voce della notte, Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Ascoltatori della notte di By Night Roma Si torna per farvi capire come è andata in questa notte Belle sorprese Esatto, dal Piper Club Intanto abbiamo detto che fino ad ora ci sono state 20 esibizioni in diretta Erano circa 40 esibizioni in prediretta 38 per la precisione Siamo in questo momento arrivati le 2 e... 47 Le 2 e 47 Le prime 3 posizioni si sono esibite in tanti Se avete acceso adesso la radio siamo al Piper Club Si sono esibiti veramente tanti talenti, tanti cantanti Svegliati a primavera Cos'è? Ma cosa significa? Queste incursioni che mi sanno di dedica Vabbè, lasciamo perdere Andiamo avanti Il tempo stringe Mi fanno gli scherzi Scusate ragazzi Come se la ridono la dietro Sono con gli artici Questa si può tagliare tanto Allora dicevamo Tre posizioni, non più tre Ma in finale Sono quattro Ebbene sì, avete sentito bene quattro Facciamo il clima, mister Alessandro Moglioni I primi quattro Perché c'è un pari Un exequo Li chiamiamo in ordine sparso qui sul palco In ordine sparso Chiamiamo Di Florida Oh, è rosi continuo Finalmente l'applauso Dirty Beats Laura Abbate Applauso Sono i finalisti Sì, è stata una dura lotta E ora sono qui sul nostro palco Anzi, sul palco del Piper Club Eccoli qua Per essere quattro sono tanti Ci manca uno No, ci siamo Sono tanti Sono tanti Sono loro i finalisti Allora, andiamo direttamente Perché abbiamo poco tempo Dunque, sì Come sempre Tanto li conosciamo Voi siete? Noi siamo in Florida Come va? Tutto bene? Eh, tutto bene Un po' sonnato Siete stati bene? Siete divertiti? Volete salutare la giuria? Volete arrufianare? Tanto hanno già votato? Allora, vabbè Detto e allora non me ne frega nulla Hai sentito? Proprio onesto Allora, io direi di Decurtare Lui è leader? Esiste un leader, una band? No, no, siamo tutti Sullo stesso livello Ognuno porta il giusto apporto Al progetto finale È leader È umile Esatto Lei è una solista Come a tennis, giusto? Iguale, sì Lei ha risolto la radice Eh? Come è andata? È un po' stanca Però Credo bene, no? Tu sei una di quelli Che ci credi, no? Come quelli di amici No Ma come di amici, povera Scherzo, scherzo Invece da questa parte Lei è tutta abbinata Ti ha portato bene Il giallo e il nero Ma speriamo, no? Ok, voi Ordine sparso Sono loro Ah, si chiamano Ordine sparso loro? Lei è la sua lista finale Lei non sente mai Hai detto? No, ma secondo me Sei sorda di tuo Ma ho detto in ordine sparso Sono loro No, te Sto venendo da te Dimmi Com'è andata? Penso bene Che ne sai? Scusami Vabbè, qui sul palco Ma perché lei sta lì Che canticchia vinicio? Sta lì ogni tanto Che? Eh? Cominciamo Invece Te, tutto a posto? Benissimo Allora, tutti contenti? Comunque vada sarà un successo Almeno per una volta Tutti Fate un grande applauso Grazie Oh, nessuno Niente Tutti C'è gente Niente Soprò tirati Eh? Io capisco la stanchezza Comunque Partiamo dal gradino più basso del podio A questo punto Tutto bene Tutta la grande Esattamente Allora Alla posizione Numero Tre Loro sono I Dirty Beats Applauso Facciamo un forte applauso Fatelo sentire questo applauso Forte 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 Trentuno voti Complimenti Complimenti Alla posizione Numero Due Abbiamo Eh? Qua è scritto un po' male il cognome Rosi Continuo Complimenti Rosi Complimenti Trentuno Brava Brava Trentuno con l'ode Con l'ode Quindi sei piaciuta particolarmente Ora E abbiamo capito Che Vincono In diretta Su Radio Radio By Night Roma A pari merito Sono in due A pari merito Allora Spieghiamo l'antepatto Esatto The winner A pari punti Ben 32 punti La giuria Ha deciso di assegnare Due primi premia In Florida E a Laura Abate Che vengono Con la P.m. Positive Music School 15 ore di studio O confezionamento O confezionamento Di una demo Ragazzi Complimenti Vi auguriamo Il nostro Diciamo sincero In bocca al lupo Che questo possa essere L'inizio Del vostro successo Della vostra scalata Verso il successo Esatto Allora io dico Di accomodarsi Sul palco grande I due vincitori Grazie Potete rimanere qua voi Per incoraggiare Non rimanete con noi Rimanete con noi Potete salire I due vincitori Sopra Allora In Florida Così si preparano Perché Laura Abate Li dobbiamo riascoltare Ricordiamo che le scuole Hanno deciso Di dare il premio A tutti e due I primi classificati Erano combattuti E non se la sentiva Abbiamo chiesto di scegliere Tra l'uno e l'altro Sono stati molto combattuti Sebbene dispari Poteva uscire Un vincitore Hanno deciso Generosamente Di offrire Due primi premi Li ringraziamo Ringraziamo Come detto La B.m. Positive Music School La Roma Spazio Musica Grazie per essere stati con noi Per aver avuto pazienza Per aver votato Per aver dato i vostri premi Per aver collaborato con noi Per questo evento Che Lo posso dire È stato un successo Eh Sì stavo dicendo Di far accomodare rapidamente I ragazzi Altrimenti Siamo Usciamo dalla direzione Non usciamo fuori dai tempi Quindi Chi si esibirà per prima Fate paro o disparo La singola Per cavallia La solista Inizia prima la donna Dare la voce a Laura Abate Ringraziamo Posso dire adesso Ringraziamenti È il momento Ringraziamenti per il momento Vanno naturalmente A tutto il Piper Club Al direttore Andrea Lemanno Alla proprietà I signori Bornigia Ma anche al grande Gianluca Armagno Il mister Alessandro Moglioni Luciana Morelli Vanessa Direda Morelli Ah Morelli è vero Valerio Russo E poi salutiamo anche ovviamente la produzione televisiva Emilio Giordani ovviamente Abbiamo praticamente poi gli ultimissimi ringraziamenti Adesso Stiamo preparando Laura Abate Lei è pronta Ci sei? Sì La riascoltiamo Se lo merita Talento della Notte Romana Lei è Laura Abate Radio Radio by Night Roma Radio by Night Roma Presenta il nuovo Talento della Notte Romana Non dormo gli occhi aperti per te Guardo fuori e guardo intorno Come gonfia la strada di polvere e vento Nel viale del ritorno Quando arrivi, quando verrai per me Guarda all'angolo del cielo Dove è scritto il tuo nome? È scritto nel ferro del cerchio di un anello E ancora mi innamora E mi fa sospirare così Adesso è per quando tornerà l'incanto E se mi trovi stanca E se mi trovi sperta Se il meglio è già venuto E non ho saputo Tenerlo dentro me I vecchi non sanno il perché E anche gli alberghi tristi Che il troppo è per poco E non basta ancora Ed è una volta sola Ancora proteggi la grazia del mio cuore Adesso è per quando tornerà L'incanto L'incanto di te Di te vicino a me Eccola Si è esibita Complimenti Diamo spazio Eccoli qua Stanno arrivando anche in Florida Laura Bate Complimenti ancora Radio 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 By Night Roma 104.5 Grazie a tutti